Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti che ci attendono il prossimo weekend. Partiamo da Cuglieri l'11 agosto, Mandigos in carrela, un viaggio attraverso la ricchezza e la diversità del patrimonio cuglieritano, seguendo un itinerario del gusto tra prodotti agroalimentari, poi arti, mestieri e antichi saperi. Su Facebook troviamo l'evento con tutte le informazioni utili. Dal 10 al 12 agosto a Telti Sagra del Mirto. È la festa del famoso liquore di Sardegna e di tanti prodotti a base di mirto, con mostre e incontri, sfilata dei mammutones e balli con i gruppi folk di Monti, Tempio e Olbia. Per saperne di più possiamo cliccare sull'evento postato sulla pagina della Sagra del Mirto. Domenica 12 agosto a Palmadula, Sagra del Maialetto. Si va nel cuore della Nur a far felice il palato con uno dei più importanti piatti tipici della tradizione, il maialetto arrosto. In serata tanta musica con il concerto dei Bertas. A Esterzili, l'11 agosto, Sagra dei Sufrigadori e dei Isaco Coeldas. Musica, canti tradizionali e degustazione di prodotti tipici saranno le attrazioni principali nel suggestivo paesino della Barbagia di Seulo. Poi mostre, sfilate e laboratori in un'atmosfera antica e ricca di tradizioni. Troviamo maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Esterzili. A San Roque, sabato 11 agosto, San Roque & Beer. Nella cornice di Villa Siotto si potranno gustare oltre 30 birre artigianali, accompagnate da piatti della tradizione in chiave street food e tanta musica. Per restare aggiornati sul programma basta cliccare sull'evento postato su Facebook. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a infochiocciolasardinianlife.it